Una Fidelisandria che chiude al giro di Boa con 27 punti, forse 30, dipenderà qualcosa che accadrà con Manfredoni, ad ogni modo una vittoria di sostanza. Sì, assolutamente sì, è stata una vittoria sofferta perché forse non abbiamo fatto bene in tutte le fasi dalla partita, però consideriamo che affrontavamo una squadra che al di là dell'ultimo periodo, che è non stato attraversando sicuramente un periodo facile, però è una squadra che hanno giocatori veramente importanti, che quasi sempre hanno giocato per risultati importanti in questo girone, quindi grande merito alla squadra che ha saputo spingere sull'acceleratore quando c'è da spingere, abbiamo sopperto il giusto perché quando si affrontano le squadre forti si soffre, bisogna essere compatti, non abbiamo rischiato tanto, però qualche palla vagante alla fine ci ha creato un po' di apprezzione, però siamo stati bravi a gestire anche con la situazione. Soprattutto il gol di Cecere è stato bravo, scaltro forse anche ad approfittare dello svalione difensivo della Gelbison, tutto però parte dal solito assist di Srambelli. Sì, Cecere semmai meritava di segnare prima quando abbiamo fatto quella bella azione con Jefferson, poi gli ha lasciato questa palla che lui di punta ha calciato, ha fatto benissimo, ha preso il tempo all'avversario, però la palla è rimasta centrale, poi abbiamo avuto la situazione di scari in gela anche, e Cecere è uno che è un ragazzo forse tra i più interessanti, ma ne abbiamo quasi tutti, il parkwander hanno avuto tutti ragazzi interessanti, quindi sono contento che Simone ha segnato, sono contento soprattutto dalla prestazione che ha fatto. Dalla 3-4-1-2 al 4-4-2, una Fidelis che ha cercato anche di coprirsi, insomma è riuscito anche a contenere le ripartenze della Gelbison quando ci sono stato. Sì, abbiamo cercato di variare un pochettino, anche perché è una squadra forte, è una squadra che si mette in contraposizione con gli altri, capendo che deve anche affrontare situazioni di difficoltà. Ho preferito abbassare un pochettino Feola, cercare di chiedere un sacrificio a Srambelli, in una fase di non possesso, anche se non nelle sue corde, però l'ha fatto in maniera egregia, gli attaccanti sono comportati in maniera superlativa, quindi questo è lo spirito che deve avere una squadra, un gruppo e questa è la cosa che oggi va sottolineata.